sono usciti da sto palazzo che sto io eh dietro a voi sono usciti da sto palazzo che sto io ma mi hanno colpito ma io sto troppo scoperto non scende stente conviene ne restano 25 stai andando bene che faccio potesce nell'altra cazzo quella buona guarda che cazzo come sono sceso una qua sopra e l'altra là no e qui vedi se mi metto da così non mi piano manco se ci stanno cecchini là sopra meglio no da di tre ho spaccato la corazza uno di sotto ma non è morto no 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 Sì, no, 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 no Sì, no, 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 no Restano meno di dieci nemici Vedete che rumore? Eh, ma stai, ho sparato tanto, eh, almeno atterrallo, cazzo Mattia, stanno ancora sei squadre Otto persone Sì, ho 30 colpiti, dai più 4 Siete con... Dai che se devi muovere un pochettino, Stefani Ah! Stai chiuso a me Stai chiuso a me Stai chiuso a me Stai chiuso a me, uno sta a posto But don't catch E rimangono 5, concentrati Guarda com'è Cioè, ah regà Ah regà Cioè Non dite niente Non dite niente Scusate 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 Sì, poi sono nel numero uno Scusate Beh, hai detto che giocata l'ho fatto, sì Eh? Hai visto che giocata? Scusate 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 Grazie a tutti.